Oggi abbiamo parlato di tre temi fondamentali, abbiamo parlato di PIL, definizione, struttura, quali sono i driver per far crescere il PIL, PIL in italiano che ricordiamo è da circa un decennio che non cresce. Abbiamo parlato di commercio, export, l'Italia è uno dei paesi che ha un grande tasso di export sul PIL, quindi dipende moltissimo dalla domanda esterna, è l'unica componente del PIL che cresce, questo è un bene ma anche un male, perché un'economia basata su domanda esterna è soggetta a shock che non possono essere controllati. Il terzo elemento della discussione di oggi è stato sulla politica monetaria, come le politiche dei tassi possono influenzare consumi privati, investimenti e attraverso una relazione tra tasso e valore dell'euro possono quindi anche servire per spingere ulteriormente le esportazioni. Quindi PIL, commercio e politica monetaria, tre componenti tutte collegate reciprocamente in un sistema italiano che purtroppo comincia ad avere sempre meno flessibilità perché queste leve sono sempre controllate, nel caso dei tassi della Banca Centrale, nel caso del commercio dalla politica economica della Commissione e nel caso del PIL e degli investimenti anche lì il nostro budget è soggetto a regole economiche, quindi dobbiamo cercare di comunque fare il miglior uso possibile nei limiti di quello che le regole ci concedono. Grazie a tutti!